Scontro senza esclusione di colpi tra Attilio Romita e una concorrente del GF VIP7 durante la puntata andata in onda lunedì 19 dicembre. Dichiarazioni che non hanno bisogno di molte spiegazioni visto che lui è stato molto chiaro, ma la diretta interessata ha saputo replicare con forza. Stiamo parlando di Vilma Goic. Romita è stato molto deluso dal suo comportamento. La Goic infatti ha parlato dietro le spalle di due ragazze della casa dicendo cose ignobili e poi è andata a criticare Romita per una sua piccola scivolata. In ogni caso Attilio si era confidato molto con Vilma quando si sentiva sotto un treno e lei aveva promesso di essergli di conforto. A quanto pare non è stato così. Secondo la visione di Romita lei si sarebbe proposta inizialmente come amica per poi tradirlo nominandolo e a quel punto l'ha attaccata pronunciando parole molto forti. Non le arriva il sangue al cervello, è pazza. Vilma però ha replicato con la sua solita ironia. Come replica? Lo so, lo so, quando si raggiunge a una certa età non solo a me non va il sangue al cervello, manco a lui perché pure lui non è che funzioni benissimo. Questa settimana natalizia si preannuncia decisamente turbolenta e incandescente. Alla prossima, buona giornata!